Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano la variazione di bilancio approvata in aula in Palazzo del Pegaso a maggioranza per dare ulteriori fondi alla sanità regionale. Un tema però di forte scontro con le opposizioni che hanno criticato duramente lo stato di salute della sanità toscana. Vediamo. Una traslazione di risorse per quasi 47 milioni di euro che passano dal titolo spese correnti a spese in conto capitale fatta per garantire l'equilibrio economico al bilancio consolidato del sistema sanitario regionale e quanto approvato a maggioranza dal Consiglio regionale con la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, un atto illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. È nota a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della regione toscana come del resto da parte anche delle altre regioni italiane a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio quest'operazione, si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserve e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di cassa depositi e prestiti e coperti dalla garanzia della regione attraverso le lettere di patronage. Queste risorse, recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve, vengono oggi destinate al servizio sanitario regionale. Una misura importante, necessaria e che dimostra come la regione stia con senso di responsabilità affrontando il tema dei costi della sanità per continuare a garantire i servizi ai cittadini. Sì, siamo rimasti un po' tutti perplessi perché mentre l'Aula sta discutendo di una variazione di bilancio finalizzata all'ennesimo assestamento dei conti in sanità, mentre paradossalmente anche i colleghi di maggioranza facevano appelli alla serietà a mantenere il dibattito circoscritto al tema dei conti della sanità, il presidente Gianni anziché stare in aula e partecipare al dibattito ha pensato bene di annunciare la prossima variazione di bilancio. Cioè dirci che a breve, mentre noi discutiamo ancora di questa, lui è già avanti, ci annuncia che a breve arriveranno 8 milioni per fare le bonifiche che ovviamente i territori chiedono ormai da mesi e che hanno la necessità di far partire, che non sono ancora partite, dicendo che la regione toscana si sostituirà a chi avrebbe dovuto fare quelle bonifiche e non le ha fatte. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano. E si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che si sono acuite con il Covid, però rimangono, permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva. E a questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari. E poco importa che in questo momento e solo in questo momento la Giunta regionale invochi un intervento del Governo, perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal fare in quanto era al Governo e soprattutto considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali, numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto, problema di personale, di os, la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona, Corte dei Conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa. Vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa unita a quello che ho elencato prima, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. È ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di mezzo miliardo di euro, un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi, ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal Governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo a montare di risorse destinate alla Toscana che però non vengano destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in due anni e mezzo noi non lo abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. In Consiglio regionale con il voto a maggioranza da parte dell'Aula è arrivato l'ok anche al rinnovo delle cariche a partire da quella di Presidente dell'Assemblea Toscana di Antonio Mazzeo così come per tutto l'ufficio di Presidenza, ma si aggiunge anche una nuova carica, due figure, quelle dei consiglieri segretari questori. Il Consiglio regionale ha confermato Antonio Mazzeo come Presidente dell'Assemblea Toscana in occasione del voto previsto per la metà della legislatura. Confermati anche i vicepresidenti Stefano Scaramelli di Italia Viva e Marco Casucci della Lega, oltre ai consiglieri segretari Federica Fratoni del PD e Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. All'interno dell'ufficio di Presidenza, come previsto dall'ultima modifica dello statuto regionale, sono stati introdotti altri due segretari questori, i consiglieri Francesco Gazzetti del PD e Marco Stella di Forza Italia. Sento un forte carico di responsabilità quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi, mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo con serietà, con impegno, con rigore, con passione insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di Presidenza che ringrazio. Noi, davanti a noi, abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati. Usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili, portati avanti da tutti con grande serietà, lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. Io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa Assemblea legislativa essere sempre più la casa delle Toscane e dei Toscani, un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscani e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra quando serve. Io sarò garante di questo, voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio il Presidente di tutte le Toscane e di tutti i Toscani. Segnale importante che consolida una maggioranza solida a livello regionale, ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso, ringrazio il collega Sguanci. Si consolida la maggioranza di centrosinistra nel governo della nostra regione, si consolida e si rafforza il governo Gianni, nel contempo la mia figura di carattere istituzionale, a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani, quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, Presidente, anche lui riconfermato, e nel contempo ovviamente conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica di Italia Viva a livello regionale, nel Consiglio regionale, a sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto, che compatta quindi questa nostra coalizione. Far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore, ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno. Siamo al servizio dei toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale, facendo gioco di squadra quando va fatto. In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi approvate dall'Aula. Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio. E al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore e con la massima trasparenza. È una grande responsabilità, ma anche una grande gioia. Io sono onorato di far parte dell'ufficio di presidenza ormai dal dicembre del 2017, sono diversi anni e ho cercato in questo periodo di fare l'interesse di tutti i toscani. È un onore grandissimo rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo. Lo facciamo in maniera, penso, il più istituzionale possibile perché non è quello il luogo della contesa politica. Lagone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido, sicuramente in certi momenti radicale, ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana. Sicuramente nell'Aula del Consiglio regionale l'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani. Sono molto felice che l'Aula abbia riconosciuto il buon lavoro fatto e abbia riproposto i nominativi già presenti in ufficio, questo appunto come segnale di fiducia anche per il futuro. Credo che continueremo a lavorare anche con l'innesto dei due nuovi questori in uno spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le sedute dell'ufficio di presidenza orientando la nostra azione alla valorizzazione del ruolo che l'istituzione Consiglio regionale deve avere per tutti i cittadini toscani cercando di rappresentarle al meglio e soprattutto di favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente quindi grande attenzione ai valori dei diritti all'economia circolare, alla sostenibilità ai temi del momento porteremo avanti questo lavoro avviato sulla immagine di una Toscana 2050 e quindi disegnando anche traiettorie nuove di sviluppo e lo faremo ovviamente in un'ottica come dicevo di collaborazione che va oltre i colori politici. Io provengo in questa legislatura dall'esperienza della Commissione Europa il tema dell'Europa è un tema di sempre maggiore e crescente attenzione ritengo dunque che questo sia sicuramente un campo nel quale potenziare il lavoro e poi c'è sicuramente una grande attenzione che deve essere dedicata ad esempio ai giovani noi abbiamo una straordinaria esperienza come quella del Parlamento regionale degli studenti, dei ragazzi e delle ragazze credo che il legame vada ancora di più rinsaldato e poi c'è un impegno assolutamente significativo che credo debba essere quello di poter valorizzare impegnarci ancora di più insieme al Presidente Mazzeo ai Vice Presidenti ai Segretari e adesso anche insieme al collega Stella come nuovi soggetti come nuovi questori anche del protagonismo e del coinvolgimento delle colleghe e dei colleghi consiglieri Io sono convinto che con il collega Gazzetti che ha preseduto la Commissione Europa porteremo per esempio più Europa all'interno dell'Ufficio di Presidenza il che significa avere anche un rapporto e una rappresentanza diretta dentro il bilancio abbiamo bisogno di lavorare sempre di più io sono del 1971 rappresento quella generazione Erasmus che girava l'Europa un po' per divertimento molto per divertimento che nei propri viaggi, studi nel percorso universitario trovava all'estero magari la moglie la fidanzata trovava magari un lavoro ecco io credo invece che l'Europa di oggi con i ragazzi 18, 19, 20 anni c'è un tema del tutto culturale quando si comincia a girare l'Europa che ha a che vedere con la rappresentanza sicuramente l'ampliamento dentro l'Ufficio di Presidenza con il fatto che siamo usciti dal Covid dove il contatto fisico è diventato un elemento quasi di distanza noi vogliamo riavvicinarsi ai cittadini l'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza serve anche a questo io porterò le istanze di tutti dentro l'Ufficio di Presidenza porterò la mia esperienza professionale io continuo ancora a lavorare pur facendo il Consiglio regionale il rapporto con le imprese penso all'internazionalizzazione credo che all'interno dell'Ufficio di Presidenza porterò anche l'esperienza della scorsa legislatura sempre con la stessa voglia con lo stesso entusiasmo con un'attenzione particolare a famiglia di imprese questi dunque i temi principali della puntata della Voce del Consiglio l'appuntamento ovviamente come sempre per la prossima settimana su RTV 38 grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci